Chiusura determinante di Fornasier, non è finita però l'azione viola, ancora Bernardeschi, ancora per Saponara, in aria provano lo scambio i due, si intromette Brugman e il suo intervento è determinante, poi Verre prova a lanciare il contropiede, scambio con Baebec, è scoperta la Fiorentina, sono 4 contro 2, Verre va da Caprari, ce l'ha sul sinistro, va sul destro e porta in vantaggio il Pescara al quindicesimo, Gianluca Caprari, contropiede fulminante della squadra di Zeman. Fiorentina 0, Pescara 1, impassibile, come al solito la reazione del tecnico Boemo era stato il più pericoloso, è lui a segnare il primo gol di questa partita, Gianluca Caprari. Nasce tutto da questo intervento di Brugman, poi uno scambio in mezzo al campo fra Verre e Baebec, ha creato la frattura, ha creato il break determinante, erano 4 contro 2.